le uova di cartone sono bellissime in vendita ne trovi di tanti tipi tanti disegni diverse tipologie questo è un tipo telato belle per fare dei regali a sorpresa ma volendo puoi anche creartele tu utilizzando delle forme apribili le forme che ho utilizzato sono queste anche più piccoli si possono utilizzare ma se ne trovano anche di più grandi ti mostro la procedura a 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 presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.